Ciao a tutti sono Giorno95, qui ci troviamo su Darkland, sesto episodio, ed eravamo rimasti a livello 57, abbastanza difficile Quello dei portali, comunque hanno aggiornato il gioco e si possono usare un checkpoint a livello credo Però non ne sono sicuro se uno a livello o solo in un livello Vabbè, comunque riguardo Tunnel Rush, la serie penso che finiremo verso il livello 1000 Raggiunto il 1000, se non è cambiato niente, se il gioco è rimasto fisso uguale, non c'è nessun cambiamento in livelli Possiamo concludere la serie e iniziare l'anno nuovo, tanto se è uguale c'è che cambia E hanno aggiunto anche il tempo, scusa Darkland, vabbè E comunque, questo in genere, poi sarete voi di decidere se sto parlando la serie Magari se vi piace come gioco possiamo continuarlo Ma è un gioco che penso che rimanga fisso dopo il 100 Quindi, forse non ci conviene, cioè, forse può a lungo andare o potrebbe annoiare Ok, proviamo andare qui in mezzo Eh, vabbè, sì Da sotto va in alto, sì, mi sembra giusto È difficile Ecco Ho beccato la metaforma, ma c'è andato troppo avanti Ok Dove è che è l'altro portale Però è un problema che sono questi cosi qua che stanno in mezzo Ecco, sapevo Ma non si, boh, se vuole di portale è un problema Ancora dei salti, ma Non riesco a capire dove scendere Là in mezzo Ma che lo faccio tutto di fila? Non lo so Tutto di fila non lo so Se riesco a farlo Però, boh, non si sa mai Ecco, vabbè Va bene, grazie Beccami proprio l'angolo della testa E niente Va bene Siamo molto fortunati Questo qua è buono su dove andare Notifiche del telefono Vabbè, non mi faccio a sapere dove andare Cioè, vi becca In qualsiasi modo, vi becca Il gioco di questo gioco qua Mi piace più Spezzato Con registrazione Interrotta Quando non riesco a fare il livello Quindi ve lo faccio Off camera Oppure mi interessa Vederlo Tutti i tentativi No, perché questa è una domanda Che vi faccio Giusto per sapere Va bene Perché sennò ve lo spezzo tutte le volte Siamo a posto Ok È impossibile quella parte lì È una roba Improponibile Cioè, sto svegliendo qualcosa Non lo so Qua invece dove aspettare Ma Ho fretta E non lo voglio aspettare Ok Qua dove Cioè, allora Se non riesco a fare questo punto Vi interrompo la registrazione Me lo faccio Da solo E poi dopo Riprendo dopo No, perché sennò È impossibile E dura troppo Guarda Cioè, vabbè dai Un attimo È in pausa Ehm Sì Va bene Avevo ripreso Sono a livello 58 L'ho passato Perché praticamente Mi sono tuffato un po' prima E strano Ci sono riuscito dopo Che ho bloccato la registrazione Quindi Proprio subito dopo Questo si chiama Sfortuna degli youtuber Allora Vabbè Anche questo Quindi vabbè L'ho fatto Easy Easy Dopo la registrazione Quindi Va bene Scusate Sono tirato Ma non volevo Farlo dura troppo Ok Qua do solo Passare da l'altra parte Quindi non mi sembra Esattamente complicata Spero Ma vanno C'è una velocità diversa O sono la stessa velocità No Perché non so Se riesco A raggiungere la piattaforma Così Sì Però è un po' Complicata Però va bene Aspetta un attimo Aspetta E lo troveremo giusto Perché non vorrei Riclepare Malissimo Lì E infatti O che lo faccio Tutto di fila Non lo so Non penso E se la fa così Ecco Va bene Si a pelo Però mi ammazza Dove andare subito Se no mi ammazza Quello lì Perché se sono sul bordo Mi piglia Adesso mi piglia Sapevo E se proprio Precisi Mi piglia Anche adesso Ma non lo so Io Quella punta Mi sta dando fastidio Va bene Andiamo così Allora Poi muoio E tra qua Non è lontano Il problema È arrivarci Cioè È un È un problema gigante Eh infatti O scivola troppo E vado avanti Oppure rimango Cioè Non riesco ad andarci sopra Questo mi becca Perché ho potuto Troppo avanti Non sapevo Ahimè Tre anni per aspettare La piattaforma E poi dopo Muoio Lo stesso Quindi Ok No C'è quasi arrivato Ho provato Il tutto per tutto Perché è sicuro La spinna sopra Mi toccava Era impossibile No Mi toccare Ti prego E mi tocca Mi tocca Devi passare Per farlo sotto Perché se no Ti tocca Facciamo così Passaggio Da blocco a blocco Ok Qua possiamo stare Fermi Sì Perfetto Ma no Ho failato Non è che forse Ho imparato Come andarci sopra Sì Ma no Domani Va bene E da guarda di sopra Come faccio Andare di sopra Al contrario Vabbè Vado qua sopra Vado qua L'ho fatto Questo Questo in due secondi Quello di prima Invece Ci abbiamo messo Non so Quanti tentativi Questo qua A livello 60 Ancora Al contrario Beh Se ho fatto Quello di prima Al contrario Magari Questo Non è infattibile Dove vado qua Muoio Il pulsante Lì sotto Quindi dovrei riuscire a farlo Devo peccare la parete lì E tornare indietro E infatti però Mi sono fermato Pensando di morire Ma Invece non morivo Adesso si Troppo presto Devo proprio infilarmi Nella zona lì in basso Ed è un problema Un problema gigante Se devo aggiungerlo Ecco adesso muoio Non ha girato A meno che non curva indietro Se si trattano indietro Tipo così Senza morire Magari Ok Guarda su Una molla Come dovrei fare Così? No No È un po' difficile Quasi Se taglio così Ce la posso fare Aspetta Però devo infilare Proprio lì in mezzo Sennò non ce la facciamo Un po' di tentativi Sì Fatto E adesso Dove andiamo Un po' sotto Ho quasi Quasi fatto Qua si deve riuscire così Se no O così O non ce la farò mai Anche se Anche così È un po' Complicata Però è già più fattibile No Ho sbagliato Beh Naturalmente Avevo sbagliato Se non arrivo al traguardo Sbaglio Eh va bene Allora Poi qua sotto Prendi Perfetto Dentro 60 Ok Questo com'è Eh va bene Non è una cosa da tempo Ce l'ho mai No Au Perché adesso vanno insieme Prima andavano uno Uno Sì Uno No Ecco beh Ho preso la spina proprio addosso Allora Piano Dobbiamo seguire Il tempo Dei blocchi Delle punte E non ce l'ho mica fatta Perché Mi ha ristretto tutto Mi ha ristretto Ma sicuro C'è fattibile No Perché se no Se non è fattibile Si può fare Eh va bene Mira chirurgica Più che altro Perché passare in mezzo No Ma è possibile Non ci sta il mio cubo Nel blocco Si Oltre che non ciò Passare a sto punto E adesso Da uno spazio largo Quando passavo io Non lo davo La spazio largo Aspetta Forse ne fa uno Sì Uno No Se vado al prossimo Qua se lo dà La spazio largo Aspetta Quando passavo io È stretto Quando passavo io È stretto Va bene Guardate il gioco Che altro No Ce l'ho quasi riuscito Ero concentratissimo Sapete quanto Vabbè dammi il tempo Però Manco il tempo Di passare In questo gioco Faremo sempre pochi livelli A video Perché Difficili sono Sono veramente complicati Durano poco Ma sono complicati Beh almeno Più difficili sono Più vale il prezzo del gioco Perché appunto Se le fai subito Il gioco finisce Il gioco costa un euro Ve lo ricordo L'ho preso Quando scontava E Vabbè Non costava niente Allevati L'ultimo non si leva L'ultimo Non vuole andare via Sto lì sul punto E non va via Va bene Se riesco mai A fare questo livello Dovete lasciare Una Ventina di like No vabbè Almeno 10 dai Almeno 10 Merita Perché sto Faticando Per fare questi livelli Un po' Non capisco Come passare Devo morire Praticamente Un passo Questi livelli Ne hanno fatti Proprio Precisi Precisi Per dare fastidio Tipo Tipo Il parkour Che fanno su fortnite Dovano avere I salti Proprio Precisi Per Per mettere Difficoltà Ok Devo andare Al loro ritmo Quindi Devo fare Un passo Alla volta Proprio Spedito Però non Andarcela Punta Magari Ci va Sempre Qualsiasi Punta Ok Ci vediamo Dopo Aspetta Eccoci qua Alla fine Del livello Perché Ho passato Un bel Un bel 10 minuti Di stress Perché C'era una bella Parte difficile Che avete visto Prima E questa qua Che va A tempo Avanti Indietro Come Punta Avanti Punta Dietro E le hanno Fatte Proprio Precise Colcarle Perché ho messo Un pochino A farle Batteria Naturalmente E niente L'ho fatto Così mi dimostra Che livelli Le faccio Quello di prima Mi sono toffato Dentro Non l'avevo Fatto vedere Che l'avevo Finito Ma era perché Finiva in caduta Quindi per forza Dovevo Fanno Per conto mio Ok Questo mi sembra Un po' Troppo Complicato Lo facciamo la prossima volta Se no Il video trova troppo Va bene Ci siamo arrivati A livello 62 Eravamo Allo 57 Quindi qualcosa Abbiamo fatto Diciamo C'è stato Qualche livello Che ci ha fatto Scrivere un pochino Ma Tutto a posto Ancora Possiamo Continare ad andare avanti Siamo nella zona Di zone Quindi zona di morte Potete ben capire Quanto si morirà In questa zona E poi ci sarà Graviti Che ci sono 9 livelli E basta Finito Quindi Graviti è un po' più corta Ma penso che saranno Molto più difficili Giocare con la gravità Presumo Se il titolo è così Va bene Le ultime due zone Poi finiamo il gioco Quindi vabbè Se comunque ci mettiamo Più episodi a finire il gioco Va bene lo stesso Perché tanto almeno Facciamo durare la serie un po' di più Non vorrei che la serie durasse Almeno 10 episodi Deve durare Quanto meno Per essere una serie Normale Comunque Io spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ho portato altri livelli E vabbè Pian piano diventerò Sempre un po' più complicati Quindi supportatemi Mi raccomando Che più like ci sono Più mi fanno capire Che questo Cioè Sto portando le cose belle Perché stavo migliorando In tutti i livelli E quant'altro Suona un po' Però Faccio di mio meglio Comunque Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Un commento Condivete il giro Iscrivetevi al canale E ci vediamo domani Con un nuovo video E lunedì Con la prossima live E lunedì Con un nuovo video E lunedì Con un nuovo video Grazie a tutti